Oggi è un giorno particolare, si avviano le attività ludiche, sportive, attività socio-recreative che naturalmente la Casa di Nazareth ti propone ai nostri ragazzini con disabilità del distretto di Racalmuto e non solo, anche di Grotto noi abbiamo dei ragazzini. Grazie al nostro parroco che naturalmente gratuitamente ci fa utilizzare la Casa di Padre Cipolla i ragazzi saranno e sono felici di utilizzare questa struttura per migliorare il proprio ritmo di vita, il proprio stile in sostanza di vita. Io da molto tempo già affrontavo questa tematica e grazie al mio collaboratore Gino Angelo Giudice noi portiamo avanti tutte le iniziative che la Casa di Nazareth ti mette in atto per migliorare le condizioni di vita di questi nostri ragazzini. Grazie a tutti